Ok, dunque, qui la situazione non è per niente favorevole con tutti questi arabi qui intorno. Allora, qui li abbiamo respinti e questo va bene. Adesso pensiamo un attimo agli arabi. Allora, avrei lui, ok. Cesarea, c'è lui? Burocrati, buono nell'imboscato e cristiano. Altrimenti c'è lui, che lo sto spostando a trapezzunte. Trapezzunte, però a questo punto forse sarebbe meglio mandarlo. Se arrivo qua, poi dopo potrei scendere per di qua, però sono chiuso. Quindi lo muoviamo per... Trapezzunte, c'è un generale? No. E anche questo incide. Sinope, burocrate, cristiani, questo va bene qua. Allora, queste non sono poi tante. Quindi possiamo fare questo, questo. Questo, due lanciari, e li muoviamo qua giù. Abbiamo dei ribelli. Tre. Quindi facciamo... Chi altro? Prendiamo questi. E via. Oh, c'ho. Questo è un diplomatico dell'impero romano d'Occidente. Sì. Allora, qui ho tanta cavalleria. A proposito di cavalleria. Le truppe qua giù sono pronte. Ne ho tre. Quattro, cinque. Posso riaddestrare la flotta. Ah, ok, perché... Non ha il nastrino, quindi, questa. Qui invece cos'ho? Cristiano. Come se Egipti. Ok, questo è buono. Reture. Mercante della seta. Forse questo, se lo spostassi ad Alessandria, non farebbe male. Vediamo, è solo allontano da Menfi. 481. Allora, prendiamo questi. Un arciere. Questi. Malcontento. Sì e no. Quindi facciamo un'altra di queste. E qui ci siamo. Questi sono... Cinque. Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Se facciamo così... Se uso la flotta, posso arrivare facilmente qui a Elia Capitolina. Elia Capitolina. Allora, qui non ci sono città. Allora, questo è tutto territorio mio, tra l'altro. Questo è Arabia Inferiore. Quindi penso che la loro città sia qua giù. Signore, subito. Signore, subito. Signore, subito. Mio duce? Sì, mio signore. Qui c'è un esercito. Mio duce? Parlerò subito con loro. Tentativo inutile, ma ci provo. No. Sì, mio signore. Mosse esaurite, signore. Mosse esaurite, signore. Immagino appartenga a questa. Questa è Nabatè ed è mia. No, questa è il Sina e quindi c'è una qua. Quindi allora qua giù c'è un altro insediamento. Ok, quindi tutta questa zona appartiene a questa. Bisogna fare i calcoli attentamente qua. Questa è Maishan. Questa è Lecele. Ok. Che appartiene a Palmira. Quindi qui c'è Maishan, dovrebbe appartenere a qualcun altro. Ok. A questa. Che è la loro capitale. Ok. Allora. Le truppe, le truppe, le truppe. Ok. E poi prendiamo questi. E questi. E la spostiamo per di qua. Altri ribelli. Che bello. Poi, allora. Questa l'hanno conquistata. Questa. Truppe un po' così così. Però sono fiducioso per quella di Sergiopolis, tutto sommato. Oddio, forse non troppo. La masca è quella che va salvata. Per adesso non hanno... Armi da assedio. E quindi è positiva la cosa. Tra un po' finiamo l'armeria. Adesso ho queste truppe. Scarsine, devo dire. Ad Amida stavo facendo... La statua. E ok. Quindi io ho questo esercito. Ok. Questi qui mi stanno arrivando alle spalle. Quindi queste sono tre. Potrei... Eh, il problema è che non ho macchine da assedio. E non posso reclutarle. Però... Questo esercito è composto da tante truppe da tiro. Io ne ho una, due, tre... Quattro, cinque... Sei, sette e otto. Facciamo una cosa. Proviamo a sfondare. Oddio, forse no. Anzi. Ok, facciamo questo. Due scale. E questo. Quindi vediamo se questi si spostano qua. O anche se questi si spostano qua. Ingaggiamo battaglia. E via. Questo è ripiegato. Truppe a cavallo. Questa è principalmente fanteria. Queste sono dieci. Facciamo un'altra scala. Sì. Ok, questi mi dovrebbero attaccare. Sì. Oh, c'hanno il generale. Dall'irripiego e poi vediamo. Qui potrei fare un altro limitaneo, volendo. Per aumentare le difese. E ci siamo. Allora, Sparus. Qui stiamo facendo. Qui c'è il mio generale. Che ho adottato, mi pare. Quindi Cristiano, eccetera, eccetera. Lo posso unire ad Asparus. E con questi... Questo è il loro re. Truppe non proprio eccelsie. Potrei fare una bellissima mossa e ucciderlo. Sì, mi piace. Per il resto, qui è singito. Mi ha messo ok. Questo c'è questo. Mi va un arciere, per sicurezza. Tanto per tenere il fronte. Questa è la mia spia. Questo è il diplomatico alla mano. Questo è l'Alano. Ok, Alano. Informazioni geografiche. Vi diamo 10.000. Ok. E se mi attacchi gli armeni, mi faresti un favore. Ok, accettano. Ok. Se le informazioni geografiche che mi hanno dato sono corrette, loro devono ancora possedere Mitscheta, che è la loro capitale, tra l'altro. Certo, mettere la capitale qua giù. Questo è il diplomatico persiano. Proviamo a fare una cosa. Allora, questo è il re degli armeni, suppongo. Trattato di pace, diritti commerciali. Direi basta. Vi diamo un singolo pagamento di 30.000. Vediamo se accettano. Ok, non accettano. A questo punto... Dunque, io qui avevo il diplomatico, ho detto. Dove stava? Qua giù. Allora, per raggiungere... Gli slavi ci metto un bel po'. Forse mi conviene muovere questo qui. Sì, dovrei farcela di meno. Ok, e vediamo se riesco a fare un trattato con gli slavi. Ti muoviamo. 15% 42% Proviamo. Successo. Cosa abbiamo fatto fuori? Ok, il mercato degli schiavi. Ok, quindi questo diminuisce di un po' le sue entrate. Anche se non è tanto. Quindi, senza... Indugi, ci lanciamo all'assalto... Di? Cos'erano? Campus Goti. Ok, il loro re. Vitimero. Ha soltanto tre giavelottisti. Lanciare i tribali di leva. E dei frombolieri. Cane da caccia. Questo è un maestro delle bestie, più ne comando. Con la cavalleria. Con la cavalleria. Quindi non c'è niente. Va bene. Facciamolo fuori. Buon tempo. Ok. Solita strategia. Quando abbiamo la balista. Sfondiamo le porte. Poi... Cradirei degli arcieri e basta. Per questo primo assalto. Poi muoviamo la fanteria. Sfondiamo le porti. Perfetto. Già sono tutti posizionati. Ok. Iniziamo. E sfondiamo le porte. Facciamo che avviciniamo anche questi. Ok. La galleria. Per questi assedi serve a poco. Quindi la schiero e basta. Forse alcune di queste unità dovrei mandarle indietro. Per fronti in cui sono più necessari. Oh finalmente una battaglia con i gochi. Che non è in inverno. Però aspetta anche l'altra sedia. L'ho fatto in estate quindi. Buono. Qualcuno è anche già morto. E sfondiamo per di qua. Bei campi. Dunque. Qui stiamo sfondando. Penso che... Forse due aperture... No. Due aperture secondo me vanno più che bene. Intanto prendiamo gli arcieri. E vediamo di bersagliarli con le frecce. Aspetta. No. Secondo me va più che bene così. Facciamo avanzare la fanteria. Le baliste le posizioniamo lungo la strada. Com'è possibile che siamo sotto il tiro nemico? Formazione allargata. Allora a questo punto facciamo una bella corsa. Questi sono i più esterni questi. Ok, i nostri sagittari domesticorum. Quindi le belbe che hanno fatto strage nelle batterie precedenti. Questi mi tengono a bada questi. Ok. Vai così. Schierarsi. Schierarsi. Per di qua. Ok, tu puoi cessare il fuoco. Qui siamo entrati. Ok, non sono un problema questi. Voi ragazzi andate ad aiutare questi. Eh, i rivariensi se ne è che sono tutto questo. Granché. Vabbè ma come carne da macello, non è bello però vanno più che bene. Vai così. I nostri arcieri che stanno continuando a bersagliare questi. Ok, abbiamo sfondato. Vediamo quelli della Macedonia. E attacchiamo questi. Ok, gli arcieri adesso si trattengono. Facciamo avanzare in generale. Entriamo dentro. Vai, 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 vai. Vai con i giovelotti. E ok, questi sono andati. Siamo entrati. Prendiamo posizione. Quella è la cavalleria. Sì. Quindi ci posizioniamo per così. E manteniamo la posizione da su. Prendiamo anche questi. E manteniamo la posizione. Allora, con questi invece ci spostiamo per di qua. Ok. Arcieri per di qua. I sagittaris per di qua. Questi mi vanno bene che insicono quelli. Facciamo avanzare più un po' la cavalleria. Occhio. Dove sono questi? Di qua, di qua. Balleria per di qua. Qui cos'abbiamo? Quindi facciamo che questi mi attaccano sempre i suoi cavallieri. Questi li muoviamo per di qua. Perché subiamo perdite? Allora, facciamo una cosa. Ok. 81. Forse ne abbiamo perso uno. Vai, ragazzi. Muro di studi. Ok, la cavalleria qui è pronta. Facciamo quindi... Parceri per di qua. Vai. Carica FIAC, eh. Come sempre. Eh! All'ultimo. Ok. Ok, riorganizziamoci. Facciamo entrare anche l'altra a questo punto. No, 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 no. Ma cosa fanno? Ah, perché non gli ho detto... Ok, abbiamo questi. Quindi per di qua. Proviamo a rompere... Ok, il muro di studi e attaccare questi. Altra carica. Prendiamogli alle spalle. Prendiamogli alle spalle. Questi veloci per di qua. Ok, questi li abbiamo presi. Parceri questi. Parceri questi, basta, con il tiro. Ok, qui hanno fatto un buon lavoro. Eh beh, in generale è sempre duro da battere. Ok, qui. 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 Andiamoci per di qua. Vai, carica, carica. E' uguala. Altra carica. Arrivano. Mettiamo la velocità. Il re nemico è stato ucciso. Oh, ottimo. Questo farà davvero esitare i suoi seguaci. Vini Tar è morto, finalmente. Massacriamoli tutti. Vanno gli arciari, no. Vittoria. L'armata nemica è in fuga. Inseguili. Roma esige la vittoria e i suoi generali. E questo è certamente un giorno di vittoria. Ok, occupiamo. Massacriamoli, occupiamo, va. Poi, ripariamo le mura, anche se già so che ci metteranno sotto assedio. Ah, quindi hanno un campo da lancio, da quello che capisco qui. Sì, sì, facciamo tutto. Wultuz, puoi andartene. Ma forse era meglio se li sterminavo tutti, mi sa, eh. Eh, beh, sì. Più 5%, più 1% di arresto. Sì, di arresto. Di malcontento. Se lo tolgo... 0%. E in teoria potrei muovere Asparus. Buon difensore. Comando 3. Sì, non è proprio questo grande... Governatore, infatti. Tutto 0. Vabbè, sempre meglio di niente. Questo lo diamo a questo. Sì, va bene così.